Le gare di moto sono partite alla grande e le due ruote vanno sempre più di moda. Parte Ride in the Web, ecco le novità che abbiamo selezionato per voi. Praticità, eleganza e tanta qualità, parlo di Boxer de Roo, l'unico autentico marchio per l'abbigliamento streetwear e sportwear. Capi comodi e colorati per una nuova collezione che ancora una volta detta le regole della moda. Così per sentirsi ancora più fashion c'è la serie esclusiva, con finiture e dettagli pregiati, fantastica da andossare. L'abbigliamento moderno firmato Boxer de Roo è tutto da scoprire e da ammirare negli store autorizzati, oltre che sul sito boxorderoo.com e nella pagina di Facebook Boxer de Roo Official. Occhio al marchio, l'originale Boxer de Roo che fa la differenza.